ecco siamo quasi pronti per la prima partenza della giornata questa è la bici dopo cinque minuti parte la bike no ho fatto castanedolo bucato non sapevo neanche mancano pochi minuti alla prima partenza la prima partenza della bici su strada noi purtroppo seguiamo la mountain bike mancano pochissimi minuti pochissimi minuti alla prima partenza della giornata la scalata la maddalena organizzata centro sportivo italiano comitato provinciale di brescia in collaborazione con team nicola loda ci siamo quasi la prima partenza della giornata ecco nicola si prepara nicola la segue in moto noi purtroppo facciamo la bike non seguiamo le bici su strada questa volta ecco partita la prima gara eccole qui gli atleti scalata la maddalena questa la pizzi su strada sono in molti seguirà la mountain bike ecco noi li lasciamo qui è la seconda partenza della giornata scalata la maddalena questa è la bike noi seguiamo loro e questa volta non seguiamo la bici su strada mancano pochissimi minuti meno di meno l'oro qui è la seconda partenza della seconda partenza della giornata questa è la mountain bike è la seconda partenza della giornata è la prima parte della giornata io ho rotto via indiana ci sono rotto che ci accettano avanti Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Eccolo qui, si inizia lo serrato. Eccolo qui, un altro gruppo di atleti. Si mettono lo serrato. Eccolo qui, un altro gruppo di atleti. Eccolo qui. Eccolo qui, un altro gruppo di atleti. 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 Non ho la possibilità di girare neanche un secondo. Neanche un secondo di gara. Grazie.